ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube vediamoci insieme questo video di un pane con farina con soltanto farina integrale io userò la farina della rieper sto cercando di finire le farine che ho magari da più di un mese perché adesso fa caldo e la farina deve essere presa fresca dal molino altrimenti può si può rovinare specialmente quelle farine dove non si usano conservanti quindi ora però userò questa farina e farò un pane ad alta idratazione con solo farina integrale seguitemi allora ho preparato questa farina che è di un molino dell'alto adige la rieper dove ogni tanto io mi servo e anche essendo una farina integrale le proteine ce l'ha alta questa farina 13,5 ma non mi dilungo a spiegarvi queste questa cosa perché c'è sempre qualche discorso da fare sulle proteine sul w però vado avanti andiamo avanti allora voglio fare un pane ad alta idratazione quindi voglio provarci vediamo se questa farina riesce ad assorbire l'ottanta per cento e anche più quindi metto in autolisi ho messo in autolisi in mezz'ora è passata la mezz'ora adesso avevo preparato meno acqua 400 grammi però poi ne metterò ancora perché ho visto che comunque l'ha assorbita abbastanza bene e adesso quest'altra che rimane ci sciolgo la pasta madre e poi aggiungo ancora un goccino di acqua credo altri 20 30 grammi ok una volta sciolta la pasta madre l'aggiungo direttamente nella ciotola della planetà planetaria vado a pulire le mani e poi metto il gancio e faccio girare e aggiungo il resto dell'acqua giro prima piano e poi aumento la velocità il sale poi aggiungo anche il sale dopo che ho girato un pochino e porto ad incordatura ma all'incirca io di solito giro una diecina di minuti perché poi mi aiuto poi con le pieghe bene come vedete molto molto morbido quindi farò delle pieghe slap and fold così in questo modo vedete ci sono pieghe che si usa farle con gli impasti molto idratati ecco qua così si riprende un pochino forse se girava un altro pochino facevo incordare un pochino di più era meglio lo vedo proprio morbidissimo con questo tipo di farina magari ho si aggerato un pochino con l'acqua però voglio vedere cosa ne esce fuori ok lo faccio riposare un pochino e poi faccio un altro giro dopodiché ho oliato un contenitore eccolo qua e ci ho messo dentro l'impasto che lascerò a lievitare 4-5 ore eccolo qua naturalmente la lievitazione varia in base alle temperature e alle stagioni in cui fate questo impasto quindi regolati infatti non do mai i tempi precisi proprio per questo motivo comunque deve raddoppiare bene lo verso poi sul piano di lavoro ho messo un po' di farina potete usare o la semola oppure la stessa farina integrale che abbiamo usato per l'impasto fare un giro di pieghe ah volevo dire che adesso c'è questa moda della laminazione per me è una moda perché non è adatta per i pani normali di solito non si usa per il pane di questo tipo la laminazione va fatta in casi particolari dove si fanno dei tipi di pani particolari panini e cose del genere anche baguette al limite ma non non per il pane normale almeno io so così però poi ho visto che molte persone la fanno ma non lo so bene farò qui farò due anche tre tre giri di pieghe a tre prima di andare a formare tra un giro e l'altro almeno 30 minuti coperto appena è pronto vado a fare a formare io farò un filone ma voi se volete potete fare anche una pagnotta o addirittura due due pagnotine come volete ora ci farò un filone ho la formatura sbizzarrite via perché io non la faccio sempre uguale adesso vediamo piego così potete farla come come volete se già sapete come farla l'impasto è ancora molto molto morbido ho esagerato un pochino con l'idratazione vediamo vediamo poi quando è cotto quello che ne esce ok vedete ancora un pochino leggermente appiccicoso ci metto un po' di farina questa questa farina dell'alto adige quando poi sfornate il pane se avete modo di usarla ha proprio un profumo di quei pani che si trovano su tipo la segale è profumatissima guardate ok adesso lo metto dentro il cestino ci metto la semola e poi lo lascio lievitare ancora ma non ci vorrà molto essendo così morbido poi oggi è una giornata anche abbastanza umida sapete che quando l'aria è umida il pane il lievito cresce tantissimo e quindi di conseguenza anche il pane e gli impasti l'umidità fa appunto crescere prima bene copro sistemato copro il cestino poi ci metto anche un altro delo sopra scusate ho riaperto e ci ho messo mi è venuto in mente di mettere un po' di crusca l'ho comprata una crusca biologica ce la metto sul pane integrale ci sta bene quindi ricopro poi ci ho messo anche un telo e lascio guardate sono passate due ore ma nemmeno però è già cresciuto abbastanza se vado a fare la prova a dito vedete quindi io direi che accendo il forno e lo porto a temperatura una volta che il forno ha raggiunto la temperatura io ho messo 250 con due spruzzi iniziali di vapore io ho il forno con vapore quindi lo metto in automatico oppure manuale quindi non mi serve pentolino né niente però voi se volete mettete un pentolino oppure buttate un po' di ghiaccio per formare il vapore ho girato il filone vedete sulla carta forno e sulla pala io procedo sempre così adesso faccio poi scivolare sulla teglia calda o sulla pietra se volete sarebbe di non farlo proprio il taglio perché è talmente morbido adesso ci provo quando è così conviene non farlo proprio il taglio però vedete si straccia perché è troppo morbido vabbè ci provo lo stesso ok faccio scivolare eccolo qua e faccio cuocere all'incirca per 45 o 50 minuti dipende molto dal vostro forno vi scrivo come al solito la procedura della cottura eccolo qua adesso lo metto in piedi per far uscire bene il vapore perché l'integrale tende a rimanere un pochino di umidità all'interno quindi fatelo asciugare anche a spiffero 10 minuti di cottura a spiffero alla fine beh va bene va bene direi che va bene mi sarei aspettata più alveoli con tutta l'acqua che ho messo però la farina integrale è così e rimane sempre un pochino più chiusa il profumo è buonissimo veramente buono tagliamo quando è freddo io come al solito ho tagliato caldo però l'altro pezzo adesso aspetto un pochino e da freddo è tutta un'altra cosa eccolo qua questo panno è adattissimo per le diete perché contiene molte fibre e può andare bene anche per la colazione una spalmata di burro e marmellata qui vedete ho messo burro e marmellata dell'Alto Adige quindi abbinata alla farina bene amici vi ringrazio della visione vi invito a condividere il video lasciare un like e ad iscrivervi al canale ciao a tutti ci vediamo al prossimo ciao ciao ciao